bella per voi e niente ragazzi eccoci di nuovo qua se voi ci siete molto bene aspettate un attimo Fran sto in live entri si sto accendendo io posso giocare lì alle 45 precisa alle 14.45 15.45 ok va bene ciao bella boys tra un po' in troferra scusatemi se non mi avete sentito se mi avete sentito non so è comunque they're here? no ok bella bomber you are in live ciao oh oh allora parco giochi giochi riga mi ha messo voi sapete che è fight fight allora per favore scrivetemi in chat se volete fare provini please ferra guarda che spengo ci devo aggiornare eh manca 4 minuti eh vabbè tanto io adesso faccio entrare in live gli iscritti ciao si si scrivetemi il nome di epic games in chat ciao 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 scrivetemi il nome di epic games in chat mi raccomando no provino ciao ah già ora mi sono ricordato vabbè andryx andryx scrive come ti chiami sui big games se e ti faccio fare provino se vuoi non ti competitivo sei tu martin martino in live sei tu in live scrivi beh raga uno spettatore capisco che amore miti quale di lol incendiamo il suo gruppo ragazzi giochiamo con lui e ferra e questo però è il nostro team però ce ne manca uno tanto non è un team in realtà bella per voi raga chi c'è in chat scrive per favore messaggio chi c'è saluti please si allora niente mi è arrivata una notifica da youtube mi ha abilitato le monetizzazioni bella per martin arriva il tecnico a casa sua e le aggiusta il pc sono cose nostre raga oltre a martin chi c'è in live se c'è qualcuno in live venga che mi scriva il suo nome guardi guardate sto già pronto qua così scrivo non so bella zio posso scrivere qua e c'è scrivo il vostro nome dai e non so mando un'amicizia a ciccio bello ragazzi ciccio bello gioca con me voglio ciccio bello nel team voglio ciccio bello nel team avete visto richiesta inviata richiesta inviata io l'ho detto ci sarà amore tra un po' ha finito di ammazzare tutta la lobby sussurro 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 ragazzi è rosa lo sapevate praticamente se voi scrivete così siete maschi ciao invece sussurro no da quando lasciate rosa vabbè ehhh vabbè raga per favore uno venga tolopidisa tolopidisa mitico non so chi sia non so 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 raga questo si muove mi chiede 71 ho fatto tutte ma secondo voi a lavoro con rapace per me è stato scippato rapace no non so lo faccio contento quello vuole sempre che metto la skin così oddio raga che sta succedendo bella raga quelli stimi va tutto lentissimo metto 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 questo metto questo no non mi piace metto lo squalo vaffanballo raga ci siamo c'è qualcuno con cui giocare raga chiamiamole in live stavo guardando la vostra stream ma voi non vi siete con i piccoli ah no ok adesso ci vedono vabbè dai chiamiamolo no bella raga no non rispondo ah no questo è il telefono vecchio eccolo sorry boys oddio spero non si sia visto il numero more giochi sono in live ciao bro raga c'è more c'è il mitico more voi non sapete quanto è mitico questo ragazzo adesso se ferra c'è si sveglia si piglia il rapace oh ma guarda un po' chi c'è c'è il nostro amico moredus metto creativa così ferra si unisce perchè sono in live di provini tu sei già detto al timpore ferra però adesso mi manca solo il metti ready metti ready metti ready ah ok ok fischio ok va bene raga io fischio boh perchè è così io fischio eh ok muore ti ho messo adesso pronto non voglio troppo il rapace mi piace molto ma perchè hai messo il rista a squadra eh ok muore ti ho messo adesso pronto perchè ho messo questa squadra porca maca perchè ho messo questa squadra adesso capito perchè oddio mi ha tirato una raggata con la stream no fra sto mettendo operativa ah no perchè non sono leader del gruppo zi fammi leader please che sennò la gombotto mi fai leader bella e se lui gioca con speriamo non si balla ma è bellissimo ma si si ah raga le skin del team sono queste avoc, rapace oddio metti pronto ehm ok dovrei aver lanciato poi che la tia è pieno di balli ok siamo dentro la partita e niente s... sto guardando un mondo di la scusa e che io lo è lontano perché io ho un tappetino gigante nella castra tt ok ok la stream va avanti ho cambiato tutta la posizione ho fatto un moderatore un mio amico io no perchè te secondo me la stream succhia un bot ecco io sono in via vieni dalla mia isola dove andiamo io metto io vado metto il quartiere oddio non so come si fa devo aspettare fatto ma tu vedi qualcosa ah ecco allora adesso ti metto i permessi aspetta un momento allora vado sul telefono io non faccio la creativa la mia isola ok allora gioco gioco libro gioco libro si guardarete squadre squadre 4 squadre metto limiti di tempo nessuno perchè generazione infinito l'ultimo che sopravvive nooo per la generazione si chi se ne frega salute completa poi ok scudi completi scusatemi un attimo raga emoluzioni finite si risorse finite si dai questo sopra definito le sciogliette nooo 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 buon giocatore nooo oddio si può fare troppo bello finalmente l'hanno aggiornato oggi ma no raga cos'è fatica da salto cos'è fatica da salto ah ho capito 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 alta sensi basso basso si vedevo il deltaplano si altrimenti non mortale non per finito per fare una costruzione gioco uno strumenti e isola ma tu te le puoi prendere le armi vero more 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 non ti sento più di te mi senti ok raga io non lo sento più, che casino porca mi fa danno mora ma io non lo sento ragazzi forse è un'impostazione del viso eh eeeh mora mi senti? ecco ti se cambi squadra non ti senti, cioè c'è se cambi squadra non posso parlare eh boh lascia stare allora, vediamo se ti posso itare lo stesso no non ti posso itare, aspetta allora guardo scusate raga, stiamo facendo un casino eeeh moderta gioco squadre, tutti contro tutti oddio perché ho messo a via partita mora guarda che ho schiacciato a via partita no raga che casino eeeh è finita la partita ma che bello bene mi interessa le statistiche terminata ma che raga creative è pieno di bug ok adesso si riesce non mi fa neanche correre non mi fa correre, facciamo arco giochi bravo scusate è un bordello adesso chiamo amore io gli dico semplicemente che fa parco giochi mi fa già credito ooooh ragazzi chi cazzo è il tuo gioie di dire? chi è il vostro gioie di dire chi è il vostro gioie di dire? chi è il vostro gioie di dire? vieni in parco giochi ma che è creativa ma fa schifo non funziona eeeh ma ecco allora voglio mettere a notte un orario così bello non ti vedo il nome bella zio si solo squadra bella per ferro eeeh ueeeh scuscu ma mi sentite? ora meglio metti pronto in ferra siamo in line saluta le due persone che ci sono a parco giochi vai calmate metti pronto sono pronti non ti vedo il nome manco io ok io vieni per voi mi piace se io no ci sta un botto bibi ho messo parco giochi perchè perchè è creativa e piena di band squadra 1 palazzo con la cassa sopra squadra 1 palazzo con la cassa sopra palazzo con la cassa sopra no ho già detto io palazzo con la cassa sopra si lasciami a me squadra 1 un attimo che devo guardare delle robe per favore raga ma io sono già nel pool ferra anche io ferra ma perchè mi ha so scuri mezzo? non lo so ho sbagliato lascia stare chi se ne frega perchè io non mi vedo la vita? perchè io te la vedo? perchè forse ti hai cambiato squadra perchè forse ti hai cambiato squadra non ci sono i 50 deltaplani no ma va e sono il nuovo giorno a me e che ne so io come 50 deltaplani? cos'è la roba dei 50 deltaplani raga cos'è la roba dei 50 deltaplani? sai quella faccia che ti faceva ti faceva aprire il deltaplano anche se non ti droppavi e rispettavano anche si lanciavi la propria deltaplano no non ho capito ecco l'hanno tolta quella lì che vuoi di farlo sempre ma hanno messo il limite adesso trovi deltaplani e nei tipo 10 puoi usare 10 per favore oh raga oddio sto guardando io sto guardando la stream i miei iscritti non stanno vedendo vedono tutto sgranato non posso toglierli perché mi occupano uno slot ma facciamo che non valgono le colonie alimentari così non vado a più posto un po' creativa? eh sì sì non valgono non vado magari adesso contare kill ma guarda che tanto lo fanno apposta per far giocare alla gente creativa io mi son buttato qua non sono neanche preso un palazzo raga avete visto le nuove cose delle armi? che cosa? le mimetiche? i proiettili i proiettili nell'inventario ma sei matto? guarda come sono facili oddio è vero ah io li vedo sempre uguali ma sei matto? cosa? sono in 3d raga un ferro c'è un gioco baccato baccato a me c'è un botto ho trovato anche i deltaprime ma che è? praticamente ah sì ho capito eh però non teniamo le cure nell'inventario allora raga niente cure per mafia raga ma non è che devi tipo anche comprare le macchinette magari ah raga non vale neanche la mimetica per te è più forte il p90 oppure la mitraglietta normale? per me è la mitraglietta normale che colore è? ma anche quella verde io preferisco il p90 epico io se dovresti scegliere tra mitraglietta verde p90 epico la mitraglietta verde ha più danni al secondo e poi è troppo forte raga raga io non so voi ma io sono in un'altra parte della mappa io non sono a pinnacoli come sei a parco? a passato sei a parco no io sono a pinnacoli io le dico già nella macchinetta c'è il nella macchinetta da ziz c'è il caliber pesante leggendare però raga ma non ha senso la roba dei 48 deltaponi lo fanno per farci giocare a parco giochi raga ma si gioca da full oppure? io mi sono fullato ma l'ho visto ho nella macchinetta con l'altra c'è il cecchino silenziato e il pomeriggio è il pompa nuovo leggendario per che cosa c'è il pompa nuovo leggendario? è legno ah ok easy ma voi partite da fullati o con lo scudo di mezzato? ho già detto io mi sono fullato prima e allora partì anche te amore con lo scudo arrivo raga qua da me c'è una microglietta la prendo io la prendo io dov'è? dov'è? è qui dove c'è la roba c'è la macchinetta forte prendiamo le macchinette ma non da ziz ok io ho capito è fatta in là oh io ero ferra ma dove l'hai presa? dove l'hai vista? raga dov'è la metrile eccola sorry eccola c'è amore dimmi amore avete visto la china dell'xbox? si ce l'ha si che tu ce l'hai scontata perchè costa? perchè costa? costerebbe teoricamente dov'è usare il box nuova perchè era il bundle tutto come quello della play però adesso io la pago al posto di 60 ma è troppo bella quella roba quella verde è tipo la femmina del dell'omega dell'omega solo si si ma è troppo bella per me vale fai tale raga per voi per me no cioè invece per me si però il cuore non c'è ancora non sto arrivando adesso però che pensai che non c'è nessuno in là speriamo a loro intanto non ci si più ma no ma hai scioppato un po' di livelli del passo no i livelli non lo giorgio ah eh boh io uso un po' di dormire chiuso in casa e giocare a bordo eh beh quindi vale se uno fai dare che lo fai dare no aspetta un secondo io sto andando a prenderlo la per le munizioni tipo tutto c'è un botto di roba cioè ci sono tutti e due pompa leggendari forti poi c'è il lanciarazzi in una che non vale tanto no non pare come sogno eh non pare come sogno no no l'ho presa io per io non lanciarmi lo figlio ah e anche io ma lanciarazzi poi non vale tra l'altro lo fatti boh io voglio lo scarago eh grazie no però io ho la cappa viola ferra vuoi la cappa viola per qualcosa una digol si si no 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 vabbè ti te lo scarpe devo scarpe questo muore che la faccio è meglio raga io ci sono muore comprati tutte le trappole che vuoi eeeh chi è il pirla ma quella lì è la nuova pistola quella revolver silenzata ah no no è la digol chi voglio farla una nuova pistola no ma c'è anche il nuovo palazzo che figlio ma non c'è il secondo dove è il nuovo palazzo è quello lì è quello in costruzione guarda il palazzo in costruzione adesso vado a vederlo bella raga questo è già un momento è stato bellissimo ma quando c'è nonna si stanno fanno così tanta roba e per me è aspettato un attimo sto prendendo le trappole eeeh poi che faccio che lo sai tipo ogni volta che prendi una trappola eeeh si facciamo mmm si 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 guarda che per me vale chi è questo era more io non mi sono scollato questo questo è ferro vale far cadere no non ho capito no e sono caduto io perchè sono pirla ma sei lì sotto? si sei lì sotto ma sei lì sotto ma sei lì sotto ma sei lì sotto ma sei lì sotto l'ho tolto raga ho perso tutta la vita coltando da caduta io è impossibile adesso lo tasto io ma nooo c'è more porca trota nooo ma qua ma qua farai nel termine che ti poteva faiutare non è un problema te almeno è lì si perfetto si ho capito ma ieri ho piggiato a non averlo mi sono buttato contro muore ho perso tutta la vita si si può scusami ti ho fatto cadere non vale far cadere non vale far cadere non l'ho fatto posto vedo guardalo lì eeeh penso che niente sia piramido eh non me l'ha messa si si te l'ho messo te lo so te lo so anche io praticamente oh porca a me m'è tanto amore dal d dalla sua figa ma vittato no 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 non mi fa più evitare no eh no è il limite ma chi è questo? eh no siamo arrivati al limite che che è? oh bella zigi sorry boys vale rigenerarsi si si certo boh sta roba qua la ciamola per atterrare non ci mettiamo due secondi si vediamo un po' il mattone e tutt'ormai il legno raga vedo un attimo in bagno ma no intrattenete un po' la live voi intrattenete un po' la live voi ma poi perchè sono morto a borgo bisacco? scusa a me seguiamo sulla mappa che era borgo bisacco amore amore non ci sei? no non ho materia ah è pietanone di bagno quindi dobbiamo intrattenere la la dai amore 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 bella raga ma voi ci avete di matematica il il eccomi eh come si chiama oddio che tragata che ho tirato eh voi state formando cosa fate? ma io potrei saltare io tra poco raga in mezzo a staccolare io noi magari ci chiamo ancora un po' però vedo adesso vediamo quindi per me tra poco almeno mi faccio io mi faccio fuori di due materiali eh hai capito per me come si chiama dove siete raga? ho finito ora di fare i materiali e' quello lì sono io tu li hai già fatti ferro al camion oppure io? vada al camion e' il camion si si ma vuoi seguire la sopra? no ma scherzo io no no oddio moro sei matto volevo fare un prestito bellissimo ma vediamo ve l'ho capito io sto su quello piede bella per moro ho provato il glida ho provato no oh bella bella oddio ma eri lì? eh ma io ho pochissima vita perchè il mio amore mi ha shottato oddio ma ce ne andavo da caduta avevo perso un botto di vita non t'avevo manco visto tra l'altro con tutta sta nuova che c'è ma pinnacoli boh porca vera mio rubato raga i deltaplani mi dà che sono infinite dove siete? per raga per raga guardate la luna per raga per raga guardate la luna Ah, voglio fare un trick Raga, a ver se ci riesco Non ci riesco No, sono io Io non spavo Ma sai, posso soffrire un altro centrale? Dove sei ferro? Allora, adesso vi faccio vedere, io ho capito comunque come fare per cerchinarci prima No, non ci riesco Adesso lo farò, dov'è? Eh, io stavo cercando more Ho visto che re re fulano Io no Questo è l'amore che faccio Sì, ho provato un trick, ci ho topato un cantimento Oh, se non facevi il muro Io lo sapevo già, io lo sapevo già che ero qua Porca vacca, c'è quel piro di farlo rompere No, 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 zizzo, mi stai facendo cadere Raga, non mi vedita Mi chiedi qua, sono io un canino Ma dove, perca dove sei Non lo so, tra poco mi cecchino Ma Pietro non lo so More, mi hai visto un bacco Io non so dove more Cioè, non so dove è Pietro E' perché è un dio ferro del cecchino silenziato Beh, raga, io sto aspettando more Ma dove è ferro? Oh, io provo a uscire, dato che so che ti tolgo meno Cioè, ti do l'altro di più Allora, non iniziare Ma dai, Pietro Ma dov'è Pietro? Eh, non ce lo dico, eh Ma dov'è? Non lo so Chi è che hai messo le tappole a casa? Io Io no, stavolta no Ah, senta, ma io ho fatto il fight Quindi posso rigenerarmi, è vero? Anche io, cioè Non ho fatto il fight No, no, no No, ma perché mi sono generati? Non l'avrei dovuto Eh, devo mangiarne di pagnotto, more Adesso t'ho visto Non devo mangiarne di pagnotto Cavolo, non t'ho visto, more Oddio Stavo cadendo fortissimo Non mi ricordo più che mi aveva evitato Ma no, mi si è vantato almeno per un totto Oddio, che è sto parlando? Oh, Ferro, non rompere le palle da sopra Oh, Ferro, non rompere le palle da sopra Porca No, si è caldo da giù Avevo già modificato lì Non mi ero accorto Oh, Ferro, non rompere le palle No, no, io me ne vado, ragazzi Dietro Dietro Ah No Io ho paura di mare No, anche io prendo le palle Io vedo il cecchino Ma che è bravo qui, quindi Ah, io guardo il fighter Poi Poi non sento l'idea No, ma non mi ha distrutto Non mi ha distrutto la trappola Gigi per me Eh? 59 59 Non mi ricordo più E distrutto la trappola con la digola Eh, no, 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 è che te ne ho premuto la cosa È diverso Adesso l'hanno fissato Come non cade più la... Ma no, 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 non vale a sponchillare Ferro, non vale Non vale a sponchillare Ma è more che ti ha sponchillato, vero Ma non è vero, io mi posso sparare Io te lo sto barmando More non ha la digola, tu sei scemo Ma io non ti ho ucciso, vero E chi mi ha ucciso? Eh, la cosa d'anno Dove siete? Eh, sto con un cavolo di roba Sto facendo materiali Boh, per me si può anche saltare Eh, la Eh, quella E la va, chi chi è? Dai, la macchina nei materiali Oh, cazzo, cazzo, luna Basta, adesso sotto il cittino io Appena vi ho avuto Dove sei? My boss Eh, no, no, non ero camperato Perché non avevo più materiali Io ora mi farò informare Ti vorrei andare a silenzio da blu? C'è qualcuno che la vuole? Dove sei? Ok, io posso Io posso Io ho fatto materiali Qualcuno Io posso Come ho fatto materiali? Certi si è già fullato così No, non tutto Faccio soltanto legno Anche io Io fullo solo legno Ma dove sei, More? Vai, che non lo sarà Mi amore Oddio, com'è il palazzo nuovo? Ah, ho visto? Fai ti amo, More? È una domanda, è la mia Oh, come vuole? Ferra, 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 ferra Ferra, devi star fermo Perché? Eh, io posso Fai fare Sì, ora per me fare Bastardo Fa un bagnato Il ragù Come fa un bagnato ragù? Eh, non lo fai E non mi fai Io non so dove Ferra Ho trovato ferra Eh, indovino Eh, sono caduto Ci hai fatto un pelo Va bene Non mi ha presentato Una mea volta Ho sentito un amore Ma perché io non vedo nessuno? Io sento un amore Sopra di me Ma proprio È questo qui È Ferra che rompe le scatole Di solito Perchè la Perché non hai fatto La mia trappa Ma ma sei qua Io quando trappo ferra Mi laggia Via Vado a scamare Ferra Ma non so dove sei Dove sei Tu dove sei? Dai non farlo Lo scemo tanto L'umare Lo generale È fatto state Ok Sei vicino Ma tu Sì che sei vicino Ma No Amore Aspetta Ma sì raga Tant'io ho 41 di vita Ma fare qua No mare Ma dove stava? Noi cioè io stavo Eh ci ho fatto tutte e due No non mi porto tanto a plano raga Eh te l'ho detto che hai buggato Secondo me lo fanno Secondo me ragazzi Io ho Ho un'opinione Oh no Non mi fa buttare Va bene Non mi fa buttare Non mi fa buttare Non si è ci perdi Eeeeee Chi è sto qua? Tutte e due Io avevo ucciso Ferra Raga ma io ancora Io ancora ho la tua vita In tutto questo infatti Io avevo fatti Io avevo fatti tutte e due prima di non si è un po di gioco non è stato ucciso io cioè io fai perché noi fai chiamo e poi arriva a fare che rompe scatole io ti diseredo la famiglia raga ma è normale che ogni tanto mi si rigenerano dei deltaplani ferrano guardo lo stavo formando mi piace pure io mi fai di ferra sarei io che la stagione ora anche io fai io fai tu tra poco ok io mi follo soltanto di due come di due? io mi follo di uno tra un po' ok madonna tu brah brah spero stiamo di... io mi vergognerei di noi stiamo distruggendo tutto vabbè vabbè io sono fuori di due chi gioca? io finisco questo muro qua io ci sono io e io e così ma fai chiamo tutte e tre se ne frega se uno spara l'altro vedete più bello oh io adesso sto qua bravo bravo da un投izio e un投izio è un投izio g Posso sparare? Posso sparare? No, non mi ha sparato, si eravano buggati nella roba, io c'avevo i bouncer Oh, l'ho notato, mi muore Non ti ho notato di sì, comunque va bene Non ho capito Orrrr, cazzo suono No, adesso viene la master Mi prende noi No, non ti ho preso Eh, non ti ho preso pratica il punto, mi hai sparato E certo, ti ho ucciso prima io Ma, certo, mi è stato pure, mi è stato pure tu ti eh Ti ho ucciso io tutto con la mitraglietta praticamente No, infatti perchè mi bisogna ritirare tutto Come ho fatto a non morire, ti sei follato? No Ma no Ti ha dato la hit Il cattolino Eh, ma sei caduto un sacco Io non so dove muore Ma dove sei finito? Io non ci sono Non sono mai stato in questa lobby E' indovina E' indovina Eh, c'è l'anno l'h2 No, no Mi fa poter dare Eh, non mi ha mai mai E non mi ha prenduto il teplano raga Parco giochi Ormai l'ho riempito di bug più di creativa Per far giocare la gente almeno bugata Non potrebbero Farne uno se l'ho fatto bene ora dove sei? 4 divisa, beato chi mi trova io ne ho di meno di 4 eh si vieni tanto mica stiamo facendo gara eh ho fatto il trick con la deagle con 4 divisa eh io non so disegnare sento una cosa ambigua senti come manetta come andata eh eh eee come ah 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 io mi rigenerò ero tutto carico mitico ferro ah io ci sono chi vuole fightarmi è un bel bersaglio chi vuole fightarmi è un bel bersaglio dai raga chi è che c'è dove siete? mi fai ditare non mi fai ditare non mi fai ditare non mi fai ditare provi il battle provi il battle chi viene qua? chi viene qua? dove sei? io sto arrivando dai questo sono io non è pieno dai raga uno che viene io preparo già la roba oddio ma sei passato attraverso il muro no ho staccato dai e boh io non so dove sei qua sono ho trovato una deagle raga ho trovato una deagle dai ferro io sono venite qua io sono davanti al campanile sono davanti al campanile raga uno che viene davanti al campanile raga uno che viene davanti al campanile che poi staccola lei ma non cecchinarmi il primo che arriva dei due il primo che arriva dei due è fighta con me qua qua non mi sa che hai aiutato ok io sono il campanile ma amore è arrivato prima mi vedi chi arriva prima di due è fighta con me e non so dove sei dire ferraaa son qua mi vedete? sto saltando eh il primo dei due che viene è fighta con me però muovetevi è arrivato prima amore dai ne faccio una testa prima con more ferrato dai ferra 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 rigenerati rigeneratevi e fightate prima uno poi l'altro con me e poi boh stacco dai vai vai dall'alto e fai commentatore cretino si muore così che ti voglio un sacco ma corri tutto a sinistra corri tutto a sinistra come volete mi sono intrappolato eh ma ci credo raga avete le altre scale sopra oh porr torrota pietra è partito pietra è sopra pietra è sopra pietra è sopra pietra è lo zero assoluto si allora sei sopra sento amore a cose di mie pietra è sopra pietra è sopra pietra è sopra pietra è sopra pietra è la ok se ho finito i materiali non è colpa mia quello lì è teleconista chi è che sta brillando i ferro? eh muore io solo faccio a pulerare però non mi fa evitare hello hit me mi killi forse pietra è pietra è nooo raga voi tu non sai del timing che abbiamo fatto io muore dai ferra vieni giù vieni giù fai tu velocemente con te tieniti solo uno stack di roba e basta oh con uno stack di legge io tengo uno stack di matone ecco anche io faccio così io vado avanti vabbè cambiamo posto era ma non si distruggerà mai cambiamo posto non spararmi non spararmi non spararmi volevi che ti sparava dai vieni qua dai tutto sinistra no ma dai ma io c'è l'albero qua non posso scusami ci credo sei sopra tu per forza no sei sopra io certo mi son formato incredibile si baitano porca vacca 55 in testa ma io mi faccio vedere tu eh e io ci sbacchiero ok ok ma come non tu hai tato ma dai ma non si può non hai neanche sparato si no ho sparato te lo giuro no non hai sparato si l'ho sparato e se dopo ti guardi se dopo ti guardi la live ti faccio vedere che ti fa vedere che ho sparato dai ne faccio ancora uno contro more e ancora uno contro ferro dai more 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 non spararmi dai dai facciamo l'ultimo fight dai raga io sono qua a guardarvi io ho 360 di materiale raga io faccio l'ultimo e basta no eh ferro 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 fight a tu si lo faccio con te dai 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 ferro vieni qua dove eravamo prima ah fai con me io ho 769 di materiale io di meno tu quanto hai? eh ho 800 ma di meno adesso chi se ne frega aspetta ci sono così ok va bene dai ok ora siamo a fare ok questo albero ah no 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 più l'albero no ho sbagliato perchè di 90 gli eserciati partire no no invece lo sbagliato oh bene giusti perfetti perché ti è incapprati tutti e due solo che lui si è scostato più velocemente perchè da pc è molto più difficile perché sarà il piccolo oh oh madonna che paura no non vado a far cadere vedermi a vedere non vado a far cadere due volte due volte non è fatto apposta no si 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 all'inizio dai ferro dai ferro eh oh son sotto eh oh son sotto more quanto sotto non vado a far cadere non vado a far cadere non vado a far cadere eh son saluta ok 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 dietro ho cercato di ritrenere i suoi ground